Sai quali sono le differenze tra una mail informale e formale in italiano? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di mail informali e formali. Ecco perché indosso una camicia un po' più formale, per una volta. Vedremo alcuni esempi pratici, leggeremo delle mail e vi darò alcune indicazioni per fare le scelte giuste quando state scrivendo una mail in italiano. Prima di iniziare però, dato che parliamo di mail, voglio ricordarvi che io ho una newsletter abbastanza informale. Se quindi ogni domenica volete parlare con me e ricevere dei contenuti interessanti per studiare l'italiano, potete iscrivervi alla mia newsletter cliccando sul link in descrizione. Fantastico, adesso siamo pronti per iniziare. Ho preparato per voi tre mail, una informale a una nostra amica e due formali, una ad una scuola di lingue e l'altra ad un hotel. Iniziamo dalla mail informale, adesso ve la leggo e poi vi spiegherò alcune cose. Ho pensato di scrivere questa mail ad un'amica che non vedo da molto tempo. Leggiamo. Cara Daniela, come stai? Spero tutto bene. Mi sono appena trasferito a Milano per lavoro. Adesso sono un professore d'italiano in una scuola media e mi piace molto il mio nuovo lavoro. Da quel che ricordo tu abiti a Milano, giusto? Purtroppo ho cambiato cellulare, quindi ho perso il tuo numero. Se però abiti ancora a Milano, ti va di vederci una sera? Possiamo uscire e prendere uno spritz. Fammi sapere. A presto, Stefano. Come possiamo vedere, noi iniziamo questa mail con cara Daniela. Quindi di solito una mail informale può iniziare con caro o cara e poi il nome della nostra persona. Poi ho subito chiesto come stai? Ovviamente userò il tu informale per tutta la mail perché è una mail informale. Stiamo scrivendo a un nostro amico, una nostra amica, a un nostro familiare. Quindi non è necessario essere formali e usare il lei. Poi spero tutto bene. Dico alcune cose su di me. Mi sono appena trasferito a Milano per lavoro. Adesso sono un professore d'italiano in una scuola media e mi piace molto il mio nuovo lavoro. Ok, da quel che ricordo, questa è una bella espressione, quindi da quello che ricordo, dai miei ricordi, tu abiti a Milano, giusto? Purtroppo ho cambiato cellulare, quindi ho perso il tuo numero. Se però abiti ancora a Milano, ti va di... Questa è un'espressione molto molto usata in italiano. Significa semplicemente hai voglia di... Vuoi fare questa cosa? Quindi ti va di vederci una sera? Cioè vuoi uscire insieme una sera? Possiamo uscire e prendere uno spritz. Fammi sapere. Questo è molto utile. Fammi è l'imperativo del verbo fare con mi. Quindi fammi sapere, cioè informami, se tu vuoi uscire con me. Fammi sapere. Ovviamente questa è un'espressione informale. Poi ho deciso di concludere questa mail con a presto, a presto. Quindi ci sentiamo presto e il mio nome. Ovviamente possiamo aprire una mail informale in altri modi. Abbiamo già visto il caro o cara più il nome della persona. Possiamo usare anche il plurale cari o care se scriviamo a più persone, ma possiamo anche semplicemente dire ciao più il nome della persona. Per esempio, ciao Daniela, ciao Luca, eccetera. Oppure se vogliamo essere molto gentili possiamo anche dire carissimo o carissima, che è un altro modo abbastanza informale per aprire una mail diretta a amici, familiari, persone che conosciamo, colleghi di lavoro. Di nuovo posso usare il singolare o anche il plurale. Quindi carissimo, carissima o carissimi e carissime. Nella mail precedente abbiamo visto la chiusura con a presto. Ma ci sono tanti altri modi. Per esempio, io chiudo sempre i miei video con un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio dall'Italia, dico sempre. Se vogliamo possiamo usare un abbraccio anche in una mail. Io lo uso spessissimo. La maggior parte delle mie mail si concludono con a presto oppure un abbraccio. Poi possiamo anche dire un bacio, un bacione, un grosso bacio. Per finire possiamo anche dire con affetto o tanti cari saluti. Poi ovviamente scegliete quello che vi piace di più, però anche in base al rapporto che avete con la persona. Io per esempio scrivo sempre un abbraccio perché per me comunica molta positività e anche vicinanza. Però tutti funzionano. Benissimo, adesso passiamo alla seconda mail, questa volta formale. Immaginiamo che io sono uno studente d'italiano e voglio frequentare un corso d'italiano in una scuola qui in Italia. Quindi mando una mail a questa scuola in Italia. Ora io non so esattamente a chi sto scrivendo questa mail. Quindi questo è l'esempio perfetto di una mail formale di cui però non conosciamo precisamente il destinatario. Leggiamola insieme. Buongiorno, mi chiamo John Redd, ho 32 anni e sarei interessato a frequentare un corso d'italiano presso la vostra scuola. Studio l'italiano da circa due anni e credo di aver raggiunto un livello B1. Vorrei ricevere più informazioni sulle modalità dei corsi e i prezzi per un mese. Inoltre volevo chiedere se fosse disponibile anche un alloggio nei pressi della scuola anche in condivisione o con una famiglia. Vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità. Cordialmente, John Redd. Come potete vedere, iniziamo la mail formale scrivendo semplicemente buongiorno. Qui non andiamo ad includere il nome o il titolo della persona a cui stiamo scrivendo, perché non lo sappiamo con esattezza. Ci presentiamo, mi chiamo John Redd, ho 32 anni, bla 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 e sarei interessato a frequentare un corso d'italiano presso la vostra scuola. Frequentare un corso di italiano o di qualsiasi altra cosa presso la vostra scuola significa che io voglio fare un corso nella tua scuola. Presso significa proprio in ed è specifico per alcune espressioni come questa. Studio l'italiano da circa due anni e credo di aver raggiunto il livello B1, vorrei ricevere più informazioni sulle modalità dei corsi e i prezzi per un mese. Guardate, qui usiamo vorrei, quindi il condizionale, vorrei ricevere più informazioni, perché ricordate che il condizionale è un modo per fare delle richieste più gentili, più educate. Inoltre, quindi in aggiunta, un'altra cosa, volevo chiedere, volevo alla stessa funzione di vorrei, volevo all'imperfetto, serve anche per fare una richiesta un po' più educata, vorrei chiedere se fosse disponibile, questa è la concordanza del congiuntivo, vi lascio il video a riguardo qui sotto in descrizione, volevo chiedere se fosse disponibile anche un alloggio nei pressi della scuola. Questo nei pressi significa nelle vicinanze, vicino, ed è diverso da presso. Presso la vostra scuola significa nella, alla vostra scuola, nei pressi della scuola, invece significa vicino, nei paraggi, vicino la vostra scuola, anche in condivisione o con una famiglia. E qui chiudiamo la mail, vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità, quindi io qui sto ringraziando voi, le persone che leggeranno la mail, io uso il voi, non il lei, perché non so esattamente chi la leggerà, quindi uso il plurale, vi ringrazio per l'attenzione e la disponibilità. Disponibilità, ringraziare qualcuno per la disponibilità, significa semplicemente ringraziare qualcuno per il tempo che quella persona userà per rispondere alle tue richieste. E qui chiudiamo con cordialmente e poi il nostro nome, cordialmente. Cordialmente è semplicemente un modo formale per chiudere una mail. Quindi è abbastanza chiaro, abbiamo visto come scrivere una mail formale di cui non conosciamo il destinatario, però in realtà ci sono altre formule di apertura. Quindi come abbiamo visto abbiamo usato buongiorno o possiamo usare buonasera, però possiamo usare anche gentili signori, gentili signori, oppure molto, molto, molto formale, non ve lo consiglio, egregi signori, egregi signori. Quindi in questo caso signori si riferisce ad un gruppo di persone, però noi non sappiamo esattamente chi riceverà questa mail. Se però mandiamo una mail ad un indirizzo generale e vogliamo che quella mail venga letta da un dipartimento, da un reparto specifico di un'azienda, per esempio, possiamo usare allora queste due soluzioni. Possiamo dire alla cortese attenzione della segreteria corsi, quindi vogliamo che la segreteria corsi sia attenta a questa mail, oppure un altro esempio, alla cortese attenzione del reparto informatica, quindi vogliamo che le persone del reparto informatica leggano la nostra mail e non altri. Poi ci sono anche altre formule di chiusura. Noi abbiamo già visto cordialmente, che è la mia preferita e quella che uso praticamente sempre. Ma possiamo anche dire cordiali saluti o distinti saluti. Ma adesso immaginiamo questa situazione. Noi prenotiamo un hotel per la nostra famiglia in Italia per le vacanze estive e l'hotel, prima che noi arriviamo in Italia, ci manda una mail. Ovviamente la mail sarà scritta in italiano formale. Leggiamo questa mail. Immaginiamo di essere il signor Rossi. Gentile signor Rossi, sono Marco Flaviano, direttore dell'hotel Rinascimento. Le scrivo per informarla che a causa di una perdita nella quadrupla da lei prenotata, non saremo in grado di accogliere lei e la sua famiglia in quella stanza. In alternativa, possiamo offrirle due stanze doppie. Le stanze sono molto vicine e sullo stesso piano. Inoltre, le offriamo uno sconto del 25% sul prezzo finale. Aspetto una sua gentile risposta. Distinti i saluti, Marco Flaviano. Qui la mail ha un chiaro destinatario. Infatti, usiamo gentile più signor, s-i-g puntato, Rossi, il nome della persona. Poi qui c'è la presentazione, sono Marco Flaviano, direttore dell'hotel Rinascimento. Le scrivo, guardate. Qui, dato che sto parlando solo ad una persona, inizio ad usare il lei, il lei formale. E quindi dico, le scrivo per informarla. Guardate, anche qui appunto lei formale con la L maiuscola. che a causa di una perdita nella quadrupla da lei prenotata, quindi che lei ha prenotato, non saremo in grado, non possiamo accogliere lei e la sua famiglia in quella stanza. Guardate come il lei usa sempre le maiuscole. Vedete, la maiuscola qui di lei, la maiuscola qui di sua, che sarebbe l'aggettivo possessivo. Parleremo di questo a breve in un video, dove vi spiegherò come funziona il lei, come usarlo. Quindi non vi preoccupate. E se volete guardare questo video su lei, che arriverà prestissimo sul canale, iscrivetevi, mi raccomando, e mettete anche un bel mi piace per supportare il mio lavoro. Poi qui diciamo, in alternativa possiamo offrirle, guardate di nuovo la maiuscola, due stanze doppie. Le stanze sono molto vicine e sullo stesso piano. Inoltre le offriremo, guardate sempre la L maiuscola, uno sconto del 25% sul prezzo finale. Poi qui diciamo, aspetto una sua gentile risposta. Questa è un'ottima frase che possiamo usare per chiudere e quindi per aspettare la risposta della persona, perché questa mail richiede una risposta. Potremmo anche dire, attendo un suo gentile riscontro. Questa è un'altra opzione che funziona in italiano. Qui, distinti saluti, Marco Flaviano. Quindi distinti saluti, come abbiamo visto prima. Possiamo dire cordialmente, cordiali saluti, distinti saluti e poi il nome della persona. E adesso vediamo la risposta del signor Rossi che dice, Gentile direttore, due stanze doppie sono perfette. Inoltre colgo l'occasione per ringraziarla per lo sconto e per la sua disponibilità. Cordialmente Luca Rossi. Qui apriamo con gentile più il titolo di questa persona, in questo caso direttore, ma potrebbe essere anche gentile dottore, gentile dottoressa, eccetera. Poi qui c'è la spiegazione, quindi due stanze doppie sono perfette. Colgo l'occasione per ringraziarla. Questa è un'ottima frase che vi consiglio di imparare. Quando diciamo in una mail colgo l'occasione per significa che usiamo la nostra opportunità di rispondere a questa mail per fare qualcosa. Che cosa? In questo caso ringraziarla per lo sconto. Ma potremmo dire tante altre frasi, come per esempio, colgo l'occasione per augurarle un buon weekend, per esempio. Quindi colgo l'occasione per fare qualcosa, ringraziarla, augurarle un buon weekend, un buon Natale, quello che volete. E poi di nuovo colgo l'occasione per ringraziarla per lo sconto e per la sua disponibilità. Di nuovo ringraziamo per la disponibilità. Quindi che cosa significa? Il tempo che questa persona ha passato per fare qualcosa per noi. In questo caso risolvere il problema della stanza. Cordialmente Luca Rossi. Quindi come possiamo vedere nelle mail formali di cui conosciamo il destinatario, useremo sempre il lei formale e ovviamente tutte le forme di cortesia che arriveranno presto in un video. E quando conosciamo il destinatario della mail, possiamo usare la forma gentile più il titolo della persona ed eventualmente il cognome, oppure gentile signor è il cognome, oppure gentile signora è il cognome. Benissimo, conoscevi queste regole? Spero che ti saranno d'aiuto per scrivere le tue mail informali o formali in italiano. Se hai qualche altra domanda, fammi sapere qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo presto. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!